eccoci allora buongiorno a tutti mentre le nostre mitiche amiche soprattutto non posso definirle amiche del circolo dei lettori vi invitavano a spegnere i microfoni a spegnere i video eccetera qualcuno non l'ha fatto io ho visto comparire una ragazza nella sua stanza e questa cosa mi ha molto colpito quindi vorrei cominciare da questa da questa immagine voi siete abituati fate lezione online come si dice non in presenza non lo so mi sono perso tutti i modi di state stiamo vivendo e vi voglio dire veramente bravi voi i vostri professori cioè è faticosissimo lo so non essere in classe con gli amici non poter ascoltare i professori in classe non poterne discutere in classe non poter anche invece magari non ascoltare i professori ma in classe far finta di fare altro ma in classe la cosa più bella che che c'è la ricreazione è la cosa più bella che c'era per me e no scherzo ovviamente non solo però sì beh la ricreazione è fondamentale e niente volevo dire questo perché insomma adesso mi ha molto colpito volevo dire alla grande coraggio coraggio è una parola che si dice sembra una cosa detta un po così stupidamente ma invece è una parola che ha a che fare quello di cui parliamo oggi ovvero sia l'eroismo e e collego la 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 questione da cui sono partito che vi sembrerà così solo diritto tanto per dirvi bravi perché ci perché siamo qui ma tanto io non vi vedo che che mi importa di dire bravi a prescindere ma sono questioni collegate perché l'eroismo non è una una dimensione lontana da noi di questo voglio parlarvi oggi non è una dimensione che appartiene a uomini e donne che sono lontani da noi nel tempo o nella qualità di vita della qualità delle loro azioni nel modo di fare nel modo di vivere l'eroismo è una dimensione che appartiene a tutti a tutti i tempi a tutti noi a voi a chiunque a chiunque di noi faccia non grandi cose non grandi battaglie non vittorie o chissà quale tipo di geniale o straordinaria impresa ma chi come dicevano gli antichi di cui oggi parliamo realizza nel modo migliore la propria umanità questo è l'eroismo essere eroi non significa nient'altro che realizzare completamente la propria umanità ora mi rendo conto che che non è tanto semplice da poi dice sai realizziamo la nostra umanità ma che vuol dire realizzare la propria umanità non è una cosa così così facile anche se sembra facile però adesso ne parliamo poi spero che sia chiaro e poi se avrete domande spero che ne abbiate perché fare domande è la cosa più importante e io sto sarò qui e insomma nei poemi omerici che voi credo abbiate studiato in parte letto eccetera nei poemi omerici è abbastanza chiaro cosa significa realizzare la propria umanità innanzitutto non significa vincere non significa essere eroi uomini donne vincenti quest'idea che noi abbiamo che l'eroe sia uno che vince è falsa non so perché sia cresciuta così tanto da diventare quasi inconfutabile ma è facilissimamente confutabile perché non è così guardate agli eroi dei poemi omerici e ditemi se qualcuno di loro è un vincente come noi lo definiamo oggi guardate Achille il grande eroe fortissimo apparentemente imbattibile che è un giovane ragazzo che non vorrebbe andare in guerra vorrebbe tornare a casa vivere col padre calcare i suoi cavalli di cui è piena la sua patria e vorrebbe vorrebbe fare tutt'altro stare con l'amico patrocolo bere il vino suonare la cetra si è fortissimo in battaglia e lo fa al meglio delle sue forze ma poi come finisce finisce ucciso dall'eroe più vigliacco paride che gli tira una freccia da dietro l'angolo senza farsi vedere e e e Achille muore così ecco e la sua vita finisce la vita di un giovane noi lo definiremmo scusate ma è così uno sfigato noi oggi ai nostri tempi definiremmo un giovane di tanta forza bellezza tante possibilità lo definiremmo uno talmente sfortunato che in gergo lo definiremmo sfigato è così purtroppo è un vincente Achille pensate Agamennone Agamennone è il capo della grande spedizione capo della grande spedizione cioè il capo fra i capi l'avrete studiata questa cosa non c'è un capo completo un capo fra i capi perché tutti i capi delle delle varie città si radunano per andare a troia a punire paride figlio di Priamo re di troia il vigliacco di cui abbiamo già parlato a punirlo perché perché ha rapito sedotto portato via Elena ma fondamentalmente perché ha tradito l'ospitalità che gli aveva dato Menelao a Sparta Menelao è il fratello di Agamennone Agamennone re di Micene diventa il capo della spedizione porta tutti a troia per dieci anni aspettano cercano di espugnare questa città alla fine ci riescono torna a casa Agamennone come finisce penso che lo sappiate a casa la moglie Clitennestra da 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 molto tempo lo tradisce con un altro con un altro uomo e lo aspetta semplicemente per fingere accoglienza portarlo dietro l'angolo e sgozzarlo così finisce Agamennone è un vincente Agamennone ma potremmo continuare per tutti gli eroi potremmo continuare e forse mi potreste dire Odisse 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 è un vincente perché ci mette vent'anni e torna a casa finalmente torna a casa bene ma torna veramente a casa ma insomma quando arriva Itaca si sveglia è stato portato lì dai dai feaci dove era naufragato pochi giorni prima ma insomma viene portato lì si sveglia neanche riconosce l'isola che aspetta da vent'anni poi per giorni per giorni si finge mendicante pur di architettare questa questa vendetta contro chi gli sta mangiando i viveri in casa e cerca di sposare la moglie Penelope e nel frattempo si fa riconoscere solo dal figlio nessun altro riconosce soltanto il cane Argo lo sapete tutti appena lo vede muore neanche può riabbracciare il cane poi ritrova sì uccide i pretendenti ritrova l'abbraccio della moglie sì ma sono passati vent'anni e noi a Itaca capiamo che poi tornare a casa veramente è impossibile perché la casa che abbiamo lasciato l'abbiamo lasciata e non la ritroviamo più così com'era è una casa nuova ma è una vittoria quella di Odisseo pensate riabbraccia Penelope poi le dice guarda che io devo ripartire non mi posso fermare guardate nessun eroe è un eroe vincente noi siamo abituati all'idea dei supereroi e li mettiamo accanto agli eroi niente è più diverso dei supereroi dagli eroi ma lo dice la parola stessa supereroe vuol dire oltre eroe oltre uomo i supereroi sono al di là dell'umano non sono umani e del resto tutti i supereroi hanno dei poteri che non sono umani tranne Batman no direi insomma adesso senza entrare nelle saghe dei supereroi i supereroi raccontano una un'umanità che non è più umanità che supera l'umanità una dimensione che supera l'umanità mentre l'eroe deve realizzare la propria umanità ma appunto che significa realizzare la propria umanità adesso andiamo al sodo perché poi qui perdiamo tempo ci appassioniamo ci appassioniamo scusate ma io sono romano eh si è capito ehm che volevo dire volevo dire ma cosa significa fondamentalmente essere essere esseri umani realizzare la nostra umanità in cosa consiste la nostra umanità io direi che noi uomini noi esseri umani in maniera molto molto così generalizzando poi voi con i vostri professori farete dei percorsi per approfondire queste queste tematiche studierete Freud studierete come si è evoluta la lo studio dell'anima e della psiche no anima in greco antico si dice psiche e da lì viene il termine che definisce eh ciò che poi diventa un po' la l'oggetto degli studi della nostra che che mettono al centro la nostra umanità attraverso la psiche ma insomma come siamo caratterizzati facendola proprio semplice siamo caratterizzati da due a da due aspetti della nostra psiche diciamo così da una parte una una dimensione di eh razionale diciamo di di ragionevolezza in cui usiamo la ragione in cui calcoliamo ponderiamo pianifichiamo eh è la parte diciamo con cui noi appunto ragioniamo facciamo i calcoli facciamo calcoli non solo matematici diciamo sulla nostra vita oggi ci vi siete svegliati avete in mente che c'era da collegarsi con zoom su questa cosa qui che dopo quando vi sarete scocciati oppure avrete finito ve ne andrete a fare qualcosa insomma ragionate scrivete scrivete poi c'è una parte diciamo così più emotiva che non è tanto razionale e irrazionale beh io la definirei più che altro emotiva dei sentimenti voi vi siete svegliati e avevate eravate di 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 buon umore di malumore di malumore forse perché non potete vedere gli amici appunto come dicevamo prima oppure di malumore perché dovete venire a sentire me che vi che vi parlo di di eroi e invece volevate fare altro e seguire Maradona ecco Maradona per esempio poi potremmo parlare di Maradona ma insomma adesso non anticipiamo questioni che possiamo di cui possiamo parlare dopo ma insomma c'è una parte invece di nostra che è più emotiva che ha a che fare con i sentimenti con le paure con la nostra le nostre fragilità con le nostre speranze benissimo queste sono le due grandi parti diciamo della nostra che 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 raccontano la nostra umanità il dio del calcio forza Diego sono d'accordo mi scrivono qui ho letto un messaggio bene sono d'accordo ma questo che significa che noi siamo generalmente un po' abituati a pensare che ehm no però adesso non mi scrivete tutti di calcio scriviamone dopo perché se no eh eh mi distraggo eh io mi distraggo facilmente se penso a Maradona ma anche se penso vabbè non mi ci fate pensare adesso eh grazie ehm che volevo dire volevo dire eh siamo abituati a pensare che la realizzazione di noi stessi sia la realizzazione della nostra razionalità della nostra ragionevolezza del della nostra perfezione nel pensare e nel calcolare nel ponderare nel progettare no non è vero la realizzazione della nostra umanità passa attraverso l'espressione di entrambe queste parti della parte razionale della parte emotiva diciamo così ora questo ce lo raccontano benissimo i poemi omerici attraverso un aspetto che spesso uno dimentica ma che se voi leggerete un giorno per intero il Iliade e Odissea vi renderete conto che è dominante è il pianto gli eroi omerici piangono piangono tutti dal primo all'ultimo se sono eroi se sono esseri umani che si esprimono piangono piangono di paura piangono di nostalgia piangono di dolore piangono di 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 per per mille ragioni eh ma piangono in continuazione tutti noi siamo abituati all'idea che chi piange è un eh debole vi prego in questo momento smettete di scrivere questi messaggi perché dopo ne parliamo di 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 calcio ma adesso no ho fatto una citazione se me fate così poi non posso più fare citazioni eh che è strane a Achille Odissio Agamennone e via dicendo dopo parliamo di tutto ehm anche perché io qua non è che so come togliere i vostri commenti non so fa niente ma bene abbiate pietà allora eh 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 tutti gli eroi piangono e insomma noi siamo abituati all'idea che un un eroe un uomo una donna che si realizzano ma soprattutto un uomo perché siamo ancora legati all'idea che siano gli uomini a non dover piangere ecco che non non si debba mostrare il sentimento la paura l'emozione la la nostalgia il dolore in generale no non non lo si deve mostrare allora si è forti si è invincibili si mostra la propria fermezza no gli eroi omerici ci 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 raccontano proprio questo che noi mostrando le nostre paure le nostre emozioni esprimendo completamente sia la nostra parte razionale ma anche quella più emotiva noi realizziamo la nostra umanità e questo è se ci pensate una è una questione veramente interessante ripeto noi siamo abituati a delle a delle idee completamente false perché perché dovremmo evitare di piangere io credo che quando uno vede una persona che tranquillamente che piange perché soffre o piange perché eh ha ha patito un dolore qualunque esso sia o piange perché ha delle paure noi se piange tranquillamente non ha paura di piangere noi quella persona la rispettiamo profondamente quando noi vediamo achille che all'inizio dell'iliade getta lo scettro in terra perché ha litigato vagamennone se ne va sul mare si mette sul mare in ginocchio si inghiozza piange e chiama la madre noi vediamo la verità di quel di quell'essere umano di quel giovane che chiama la mamma chiama la madre per piangere assieme alla madre ha bisogno della madre e che male c'è perché non abbiamo bisogno della madre noi non abbiamo bisogno ogni tanto di parlare con nostra madre è un segno di debolezza chiamare la madre ma l'importante è averla e non sempre è così purtroppo eh Odissio che piange col padre che cerca il padre quando torna a Itaca ma piangono tutti ma per mille ragioni adesso non ve lo sto a dire perché perché sarebbe impossibile anche perché quando voi leggerete se lo farete io fatelo prima o poi dall'inizio alla fine Iliade Odissea vedrete che per pagina e pagina si piange e la cosa straordinaria è che chi non piange non è eroe voi guardate c'è un nei poemi c'è una persona appunto che non rivela mai eroismo perché è il più pavido cioè quello che non ha coraggio come dicevamo prima non sfugge sempre sfugge ai duelli il suo stesso padre gli dice tu sei un buono a nulla sei un vigliacco un codardo sei buono solo a correre appresso alla gonna delle ragazzette solo quello sai fare quello è paride di cui parlavamo prima paride non piange mai paride è quello che non che ha paura invece di piangere se noi non abbiamo paura di piangere noi realizziamo noi stiamo realizzando la nostra umanità io credo che questa sia una delle cose più importanti oggi noi non abbiamo troppo tempo io spero veramente poi di tornare nelle vostre classi qua mi suona il telefono lo lasciamo suonare ho anche il telefono fisso io e non c'è più nessuno ma io lo amo anche perché a roma il telefono l'altro telefono prende male che volevo dire si lo dovevo staccare scusatemi bene no questo 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 pianto questo pianto noi ci ci mostra veramente in maniera molto chiara molto chiara cosa è principalmente quello che noi dobbiamo fare per realizzarci come esseri umani ecco cioè essere completi non privilegiare una parte o un'altra ora gli eroi omerici non solo ci mostrano questa questa capacità appunto anzi necessità di esprimerci completamente come esseri umani ma ci mostrano ci raccontano anche dei caratteri umani che si appongono e che ci raccontano molto bene come queste due parti dell'essere umano si siano spesso prevalenti in un in un individuo in un altro perché c'è chi di noi è più razionale c'è chi di noi è più emotivo non c'è dubbio no c'è chi è più capace nell'uso della mente c'è più chi è più capace nell'uso di quella che noi chiamiamo intelligenza emotiva sono due tipi di intelligenze diverse l'intelligenza no eh emotiva quella che ha a che fare con le emozioni e l'intelligenza che calcola che pondera che guarda oltre ecco nei poemi omerici noi abbiamo due poemi ilia d'odissea che sono dedicati rispettivamente a due mh protagonisti i quali raccontano esattamente queste due manifestazioni dell'essere umano achille e odissio voi sapete che achille è sostanzialmente il protagonista dell'iliade con achille si apre l'iliade e odissio è il protagonista dell'odissea come dice anche il il titolo del poema odissea ovvero le vicende di odissio bene sono i due grandi eroi che si contrappongono come due esempi di umanità eh opposta odissio è è l'eroe dell'intelligenza dell'astuzia è l'eroe che eh siccome è sempre eh propenso a ponderare le alternative a guardare bene eh come eh come uscire da un problema come eh risolvere la 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 il problema che rende mette a rischio la sua vita bene odissio è quello che 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 pianifica che 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 usa la che è molto prudente molto sagace intelligente è l'eroe di Atena Atena è la la divinità dell'intelligenza dell'intelligenza astuta Achille è ehm scusate Odissio è astuto è è sempre capace non dice mai il suo nome sta lì sempre un po' traccheggiando aspettando il momento giusto per rivelarsi al momento aspettando il momento giusto per dire se vado di là vado di qua insomma è quello che sa parlare a seconda degli interlocutori a qualcuno gli dice una cosa a qualcuno gli dice un'altra aspetta sempre il momento giusto perché prevale in lui la la sfera diciamo così dell'intelligenza della razionalità l'intelligenza emotiva invece è quella che prevale in in Achille in Achille prevale l'istinto l'impulso Achille è emotivo in in massi al massimo grado Achille è l'uomo che non 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 aspetta mai di dire la sua Odissio l'ho appena detto non dice mai il suo nome aspetta sempre Achille non aspetta mai sono io la penso così bam 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 non se sta zitto un attimo a Roma si dice vabbè non dico come si dice a Roma semmai lo diciamo dopo Achille è schietto sincero dice sempre subito ciò che ha in mente sempre subito ciò che pensa ok va dritto contro l'ostacolo Odissio va attorno all'ostacolo Odissio guarda oltre Achille guarda subito lì dov'è va là e sbaraglia il nemico ecco Achille è l'istinto Odissio è più la ragione ma questi due eroi in cui prevale una parte o l'altra fanno a meno di esprimerle comunque di cercare di realizzarle entrambe nella maniera più 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 profonda no entrambi poi sia Achille che che Odissio cercano di realizzare le parti che in loro magari sono più manchevoli Odissio la parte emotiva comunque cerca anche Odissio è uno che piange anche Odissio è uno che è attento al sentimento delle persone con cui parla e cerca di trovare il modo di parlare in maniera da 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 seguire il filo delle emozioni di colui colei a cui parla e Achille si è tutto estinto e tutto è tutto emozione ma è anche ragione anche Achille sa ragionare anche Achille è capace di capire quando è il momento di fare una cosa e quando non è il momento di farne un'altra e potremmo approfondire ma la cosa che ci interessa con cui vorrei chiudere e lasciare a voi il tempo di fare qualche domanda è che forse ciò che li distingue di più Achille e Odissio distinguendoli sulla base di questi due tipi diciamo così di intelligenza è il modo di vivere il tempo e questo è ciò per cui vorrei finire e che è la cosa più importante oggi che noi abbiamo veramente ci confrontiamo con un periodo in cui è importante vivere il tempo ecco Odissio e Achille ci mostrano due modi di vivere il tempo il tempo e però entrambi ci dicono che il tempo è la più grande ricchezza che è data agli esseri umani non c'è altra ricchezza soldi denaro possedimenti tutto quanto non ha alcun valore perché quando noi esseri umani finiamo ovvero sia moriamo tutte quelle cose beghe soldi denari possedimenti eccetera finiscono nella tomba cioè non non ci facciamo niente quindi l'unica la cosa più preziosa che noi abbiamo a disposizione in questa nostra vita è il tempo cioè il tempo che la riempie noi abbiamo un tempo delimitato quanto vivremo? 120 anni speriamo speriamo di vivere 120 anni come si dice a Roma stavolta lo dico da paura e lo dico perché molti di voi non sanno che da paura vuol dire alla grande non che fa paura da paura alla grande speriamo di vivere 120 anni fino al 120esimo alla grande benissimo però anche se riuscissimo a vivere 120 anni da paura beh comunque non saremo felici di lasciare questa valle di lacrime come si suol dire no non saremo felici speriamo che ci sia altro non ci possiamo pensare possiamo pensare solo a questa vita il tempo di questa vita è quello che ci spetta è quello che dobbiamo usare nel modo migliore come lo usano Achille e Odissio? Beh Achille è l'uomo del presente che vive soprattutto il suo presente soprattutto gli attimi ogni attimo si mangia il presente Odissio vive soprattutto il suo futuro guarda sempre oltre come vi ho detto guarda sempre a cosa gli dovrà capitare beh in questo periodo in cui appunto spesso siamo soli spesso soffriamo tutto quello che sapete meglio di me che non è inutile che io ve lo dica come è possibile vivere il nostro tempo? Bene ci sono due modi appunto cercare di vivere profondamente il presente oppure cercare di guardare di più al futuro io credo che la cosa migliore sia mettere insieme questi due grandi eroi mettere insieme Achille e Odissio cioè guardare al futuro ma cercare di vivere anche molto bene il presente e credo che per fare questo la cosa migliore sia fare ciò che invece Achille e Odissio un po' sfugge ovvero sia ragionare, riflettere, vivere soprattutto il passato sembra una fesseria ma per gli antichi greci ve lo dico e questa è una cosa molto interessante i veggenti, gli indovini, quelli che sapevano vedere il futuro non erano dei maghi come streghe, maghi dotati di chissà quale potere perché sapevano dire cosa sarebbe accaduto come saremmo portati a pensare oggi gli indovini, i veggenti, erano capaci di vedere nel futuro perché avevano il grande potere di saper vedere nel passato sapevano fare i conti col passato conoscevano il passato e siccome conoscevano il passato ragionavano sul passato e facevano i conti fare i conti è una cosa importante adesso ve lo dico quindi avevano la possibilità di vivere bene il loro presente e di immaginare bene il loro futuro io penso che in questo periodo fare i conti col passato visto che un po' di tempo ce l'abbiamo per fare i conti col passato sia forse la cosa migliore cioè noi possiamo metterci lì e dire ci siamo comportati bene va bene come abbiamo deciso di vivere le nostre vite in quella situazione abbiamo tempo per ragionare su cosa abbiamo fatto ci è capitato nel passato cose che ci hanno fatto male cose che noi abbiamo fatto male situazioni in cui noi abbiamo fatto del male agli altri e che non vogliamo ripetere bene, abbiamo il tempo di pensarci rifletterci e quindi fare i conti fare i conti vuol dire bene metterci in discussione mi va bene quel modo forse ce n'è un altro posso comportarmi così o potrò comportarmi in altro modo beh insomma è credo la cosa migliore da fare per ricominciare a prendere un po' possesso del nostro presente e immaginare il futuro questo credo che ci possa aiutare a essere noi eroi eroi significa essere umano quindi tutti possiamo essere eroi tutti possiamo essere Achille, Odisseo, Ettore chiunque noi vogliamo essere chiunque abbiamo più l'attitudine che ci sembra di essere più vicini come tipo umano eccetera bene è il tempo di riscoprire il nostro eroismo eroismo non significa essere diventare famosi diventare immortali sì, questi eroi sono immortali e se ne continuo a parlare perché i cantori omerici li hanno descritti e raccontati così bene che noi ancora ne parliamo ma tutti noi possiamo essere profondamente eroici e quindi diventare eroi se ci realizziamo completamente se non abbiamo paura dei nostri errori gli errori se ne fanno in continuazione gli eroi omerici fanno continuamente errori beh bene però fanno i conti con i loro errori hanno il coraggio quello di cui vi parlavo prima di fare i conti con i loro errori di vergognarsene di non aver paura della vergogna di non aver paura delle lacrime di andare avanti e di cercare di migliorarsi questo è quello che possiamo fare per usare al meglio il nostro tempo migliorarci 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 sempre e comunque grazie